Cari lettori. Siete curiosi di sapere quali sono i film in tv nella prima serata di mercoledì 5 luglio, che prendono vita dalle pagine dei libri? La vostra rubrica giornaliera è pronta a presentarli. Dal libro America Nero di Larry Beynard, il film commedia, Sesso e potere, in onda sul canale Warner TV alle ore 21 e 30. Faccio presente che il palinsesto potrebbe subire delle variazioni. Ora vediamo i dettagli. La trama del film Sesso e potere. Pochi giorni prima delle elezioni, quando uno scandalo viene scoperto riguardante il presidente che ha fatto delle avanza a una scout girl durante la sua visita alla Casa Bianca, Conrad Brehan, l'abile stratega che gestisce l'immagine del presidente, inventa improvvisamente una guerra con l'Albania. In pochi minuti, elabora un piano per far credere a tutti che la guerra sia realmente iniziata. Per portare avanti questa finzione, si rivolge a Stanley Motz, un produttore cinematografico di Hollywood, per aiutarlo. Se sei un appassionato di adattamenti cinematografici tratti da libri, non puoi assolutamente perdere questa rubrica giornaliera. Ogni giorno troverai i film trasmessi in prima serata che prendono vita dalle pagine delle opere letterarie, offrendoti un'esperienza unica e coinvolgente. Ti invito gentilmente ad iscriverti al canale per non perdere nessuna novità e offrirti sempre nuovi spunti e consigli interessanti sul fantastico mondo dei libri. Grazie, un caro saluto.